Ma la provincia di Pesaro Urbino serve un impianto di biogestione perché non è solo una mia considerazione ma anche con l'incontro che abbiamo fatto con l'Egambiente in cui è stato evidenziato i benefici che porterebbe da un punto di vista di inquinamento un impianto del genere. Ecco, dicevo, dietro questo bisogna sempre considerare che un grado di civiltà di un popolo si vede anche dal fine vita dei rifiuti. Io credo che un biodigestore nella nostra provincia oltre a produrre del gas metano e del concime possa in qualche modo eliminare l'inquinamento che noi produciamo ogni anno con i camion lungo l'autostrada per andare a portare i nostri rifiuti al nord. I nostri rifiuti al nord che fanno la ricchezza delle regioni o delle province dove noi li portiamo. Basta pensare che un biodigestore in provincia di Pesaro permetterebbe un risparmio secco di un milione di euro che naturalmente andrebbe a beneficio delle utenze finali che avrebbero una riduzione non da poco e non di poco della Tari. È stato comunque un argomento, l'ho ancora molto discusso, a Vallefoglia si è anche creata un'associazione che hanno proprio esposto il loro pensiero, che è quello del no al biodigestore. Secondo lei le chiedo se più per magari una informazione che a volte viene in maniera non proprio chiara su questo tipo di impianto e che quindi magari e poi crea confusione anche nella gente. Ma io credo che tutte le persone abbiano diritto a chiedere dei chiarimenti, chiedere anche come è fatto l'impianto, eccetera. Per questo e per quello che è competenza della provincia noi siamo completamente a disposizione anche con l'Ata per dire le cose come stanno ed essere i più trasparenti possibili nel percorso che si fa. Noi qui abbiamo una richiesta, un progetto che è stato presentato. Stiamo valutando e faremo tutte le valutazioni che vanno dal via, tutte le valutazioni del caso, anche da un punto di vista di impatto ambientale, eccetera, eccetera. Dopodiché se ci sono i presupposti per farlo, cosa che io reputo che ci siano, non c'è nessun problema a dare l'autorizzazione. Naturale che con la gente si deve parlare, si deve spiegare perché io credo che la gente se fosse informata e se non fosse magari delle informazioni fatte così, diciamo tra virgolette a spizziche bocconi, leggi una cosa, ne leggi un'altra, io credo che la gente non avrebbe timore, non avrebbe paura di un impianto del genere. Credo che i timori crollerebbero immediatamente. Io vengo da una cultura, una formazione ambientalista, vengo da Isola del Piano e sono stato uno dei soci fondatori di una cooperativa che ha iniziato a fare il biologico nel 1972. Per cui reputo e credo di essere attento alle questioni ambientali, però allo stesso tempo debbo essere aperto a tutte le soluzioni che oggi la tecnologia mi pone perché credo che la cosa più assurda che ci sia, siano le discariche. Le discariche o andare a interrare, come capita in alcuni casi, l'abbiamo visto nella terra dei fuochi, ad interrare i rifiuti sottoterra che lasceremo un'eredità incredibile ai nostri nipoti, veramente un'eredità avvelenata.